Stunning Silences with Domenico Cascarino e Luca Lombardi Non so cosa dirvi davvero Tre minuti alla nostra più difficile sfida professionale Tutto si decide oggi Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta uno schema dopo l'altro fino alla disfatta Siamo all'inferno adesso, signori miei Credetemi E possiamo rimanerci farci prendere a schiaffi oppure aprirci la strada lottando verso la luce Possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta Sapete col tempo, con l'età tante cose ci vengono tolte ma questo fa parte della vita però tu lo impari solo quando quelle cose le cominci a perdere e scopri che la vita è un gioco di centimetri e così è il football perché in entrambi questi giochi la vita e il football il margine di errore è ridottissimo Capitelo Mezzo passo fatto un po' in anticipo in ritardo e voi non ce la fate Mezzo secondo troppo veloci o troppo lenti e mancate la presa ma i centimetri che ci servono sono dappertutto sono intorno a noi ce ne sono in ogni break della partita è il football ragazzi è tutto qui è tutto qui è tutto qui